Io non ho potere, ma non ho neppure bisogno di vendermi per sopravvivere. Sono tollerato, anche se formalmente si condanna quello che faccio, o meglio, quello che cerco. Perché procuro cose che, pur essendo inutili, tutti, prima o poi, in qualche momento particolare della loro vita, desiderano tornare a possedere. Io, infatti, procuro il passato.